Colpo pazzesco del Lecce perché per quanto riguarda Lecce, squadra che si deve salvare, questo è un colpo veramente interessante. Sì, perché Lecce alla fine ce l'ha fatta, prenderà in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a verificarsi di tali condizioni. In questo caso per Lecce sarebbe la salvezza, male il giocatore della Fiorentina ragazzi. Questo è veramente un bel colpo per una squadra che comunque si deve salvare, per una squadra che comunque allunga la rosa. Lecce ha dimostrato in questa prima parte di campionato che può tranquillamente giocarsela. Con questo acquisto in più, appunto, Malè si rinforzano ancora di più. Diciamo che l'obbligo potrebbe verificarsi perché Lecce è una squadra che ha dimostrato che si può salvare tranquillamente se vuole quest'anno. Colpaccio!